E proprio alle forze dell'ordine ha voluto indirizzare un messaggio di auguri il ministro dell'interno Lamorgese in occasione delle festività, siete un punto di riferimento per il paese, così la titolare del Viminale grazie alla riconosciuta capacità di gestire con professionalità e profondo senso del dovere ogni situazione Lamorgese ha inoltre sottolineato come tutti i corpi si siano sempre mostrati all'altezza delle complesse funzioni chiamate a svolgere nel quotidiano